Caterpillar Sì, sì Vado a fanculo Ma poi caterpillar gli ragazzini si chiamano caterpillar Che cazzo hai avuto? Sai cosa vuol dire in inglese caterpillar? Eh no, è un mutito Bruco Bruco? Sì Vado a fanculo, che bruco Che scepa Uff Tanti passi mi stanno a fare insieme Dov'lì o no? Siamo a te? Siamo insieme, vado giù a vedere subito se arriva qualcuno Sì Guarda, non può girare un attimo Sì È spawnato, è qui vicino eh Devi sentire Forse è da te È morto, è morto, dovrebbe essere morto Era davanti a me Sento che si soffre che c'era morto Era davanti a me Adesso andi eh, ricopare la porta Sì Sento qualcuno sopra o adesso Non credo Anch'io, sopra di noi a destra È sopra Sopra, sopra Non scappare Non scappare Non scappare Amo al bunker? Vai Vai Aspetta quello questo cazzo sta solo Si sta muovendo piano qualcuno eh Sì Oh, è al bunker, sì Sì Morto un altro Era dietro di te nella porta Pensa Pensa un po' Vai 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 Due meno Ancora quanti quindi? Quattro Quattro No due Vado dentro al bunker sotto eh Quattro C'era un player E ce n'è uno con la lucetta lì sotto di te Sì Sì Ok, sto dentro eh Passa se vuoi Se vuoi venire dentro No ma qui? Cazzo è qua Ma guarda un attimo Guarda un attimo Guarda un attimo Quante ce n'hai oh Quattro è? Sparano eh comunque Io guardo la porta di qua Il punto è libero Ma io mi metto da macerie Mi metto da macerie Sì Sento un silenziato eh Non riesco a saltarci sopra Eh saldi eh Non ti muovi più Ok fermo, son fermo qua Perfetto Eccolo Morto Headshot Ma rigariga Quindi tre Tre due cinque Ne manca uno Non c'è uno Non c'è uno Eccolo No, non lo facciamo Qui passi nessuno Tutti io li Oh eccolo Un altro Eh vabbè Tutti io ce li frego Aspetto questa che esce dal tunnel Tanto muo Adesso Una mano No no Tu sei il boom a mano E' troppo lontani Sono dai Nasconditi Comunque L'hai fatto L'hai fatto E' morto Sì sì Dio che peggio C'è tutti da Vabbè Eh sì Tu è qua Mica line point Bellissimo eh Ma se mi arriva qualcuno dalla sinistra Mi scoppia eh No Dalla sinistra Sì Ah sì Ok Ma io Ma vicino All'entrata del Ora Ora non mi scoppia più Ora Ora prima che mi spara Lo vedi tu No Spara un colpo eh Un colpo Perché spari? Eh perché volevo vedere Mi sembrava che c'era qualcuno Che luttava Sento un cazzo Che pazza di mia E' probabile che sta sotto di ai I cilos questo Qua dai Probabile Magari è andata a estrarre eh Ma guarda Qualcuno è estratto No 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 Lo sento Lo sento Lo sento a destra Qualcosa Sento qualcosa a destra Forse è spawnato uno scout player Sento un po' si sta nascondendo oh che coglione senza cagliatore manca un cagliatore io ho sentito qualcosa sotto tunnel guarda ti lascio un giro sotto al tunnel e no perché poi lo sono scoperto andiamo insieme allora no insieme va aspetta andiamo verso nascondiglio prima nascondiglio che? ci ho ammazzato un botto di gente gli luttiamo un attimo per le armi che le leviamo ai player dai guarda, vi lascio questo che sta qui davanti si che l'hai ammazzato qua oh senti lo scab? si qua sotto ah si l'ho detto l'ho detto io non lo vedo senti la due dimmi che c'è segno dove cazzo? occhio copia che ti prende eh si ma non ha sparato a noi mi so scusi ma copio perché sto prendendo i slagher qua vedete il bel cagliatore per cura f1 fatto non ha sparato a noi che cazzo sai saliamo su saliamo su scali sai sai che cazzo stai che cazzo non ho nessuna spara da noi ah no Sotto tunnel è morto qualcuno Eccolo Fermo Qua arriva qualcuno E' lì dietro E' morto era un player L'ultimo E' lì sotto L'ho ammazzato Dovrei averlo ammazzato E' morto Era un scappatore Non era un player A me sembrava un Usec Ah no Era un scappatore Aspetta che chiudo porta del ponte No non è estratto nessuno Della free Sono spawnati un botto di scav 1986 scav Dove sta? 1986 E' morto E' perchè cazzo Non mi sono sicuro Ci credo ti porti quel fucile di merda Ma mi manchi di vero Ci fai tutti di... Che cazzo ti devo dire E' una partita fortunata Ora morirò per il quale possibile Sei tu vero che... Adesso il bunker Sempre super io Adesso il bunker Ah ok Hai spawnato uno qui sotto Qui sotto scala chiocciola Un scav player Ok Sto guardando Lo vedo Sì eccolo Eh lascia Mene uno portacci Eh no L'hai ammazzato te L'hai ammazzato tu Uffici uffici Di quello? Sì Ho sentito rumori vicino di lì E' tu? O lì? No io non corro Io sto camminando sul ponte Ti sparano ti sparano Ho fatto qua L'ho fatto L'ho fatto Ah ok Pensavo ti sparassero Minca che rumoraccio che fa Saga E' silenziale questo Sì sento qualcuno che cammina piano qui eh Bagni o uffici Vieni da me che copri un po' la porta col Saigone Vengo Mi metto io di lì da quelle pare Questo ponte Sì Vai faccio una cosa Vado io vai Tu qua Lo lumino di immenso Vengo dietro di te Dai Occhio Lo lumino di immenso Occhio Dentro lo scale Fermo? Sono fermo Cammina Dove? Qua sotto A destra L'hai fatto? Ho sentito uno anche qui eh Qui vicino Qui sotto ponte Da ponte Non lo so Non lo sento Eh l'ho sentito io Lui lo? Sì Si è messo a correre quando hai sparato Scendo O Sì O sotto Silos O boh Ok vado giù Vai Giù dove dove? Da dove ti muovi? No 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 Eccolo lì sotto Silos Aspetta che viene su Aspetta che viene su Morto 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 uno Scav Ok vai Non so dove volevi andare Vai bagno A vero c'è qualcuno Chiudo porta rossa Ma penso che hai fatto tutto Lo figlio Ma hai il TT? Sì ti serve? No no Piglia tutto Ce l'ho un botto Di tutti E vuoi? Ma Avere un attimo I banniers C'è qualcuno Cazzo Con line point Bellissimo A T? Oh Minchia mi son cagato sotto Ho sentito la porta Porca troia Sì ma Ste porte Son bagatissime Mi sembrava Lui sotto Il cammino Mi sembrava Che me l'aprivi In testa Sta porta Vai verso Offline Dovrebbe essere Di qualcuno Lì Offline Sono tutti Veni Vengo su Vieni su Vieni su Vengo su Allora Non c'è il ponte Questa è il ponte? Sì Fuori Fuori dal ponte Fuori dal ponte Abra la porta Questa qua Ora 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 Siamo in ponte Comunque Lai stai sul ponte Sì sì Non ce ne andiamo a lasciare eh Siamo in ponte Sì Siamo in ponte Ieri ce n'era uno qui, guarda, qua così, qua Poi l'altra volta uno così che guardava il corridoio lì, così No, io metto dappi qua, guarda Eh, anch'io, ma mi hanno ammazzato da sotto a me Io metto dappi qua e mi chiapetto tutti A me mi hanno ammazzato dai bagni Dai bagni? Sì, perché passa il proiettile, lo sapevi? Che è legno Non aspetta la GM count, sì, GM count Un po' sta un pianeta pistola, sto giallo Vuoi comprarti USS Se vuoi, ho visto che ha 84 colpi silenziali Ma chiudo la porta e mi ha aperto tutto, chiudo la Sai quanti li ho trovati? Sono quelli gialli, vero? Sì Andiamo giù Sebbano i window? No, no, ma spero, cazzo Non ho più WSS Ma da cazzo, Stairo Ma sta volutando ancora io Tanto, rispettate che sono gli altri scavali Minch, ancora? Eh sì Abbiamo ammazzato i 2000 Per tanti? Sì, li sento, lo sentite anche Forse offline Offline? Eh, forse Allora, qui non ci sono Sì, qui pump station non ci sono Esco Dai, vieni Ah, vai di lì? Vengo anche io, vai Chiudo Ma come c'è stato, no? Chiudo le porte di uffici Vieni, vai, andiamo giù al nascondiglio Passiamo dal ponte e andiamo giù al nascondiglio Lo eseguo Che c'è pieno di corpi là Chiudi la porta così Vabbè, cazzo Occhio qui, occhio qui Ok, nessuno Dai, qua c'è pieno di roba, eh Dai, fate, fate questo Fate questi, via Volevo vedere questo qua Occhio un cazzo Nascondiglio di merda Fate questi Te copro Io preferirei i fucili a pompa Di accappini di merda Vabbè, mi figlio l'accappino Aspetta un attimo La vostra porta Dove sono andata? ora la gente adesso adesso le gente adesso a me stai parlando a me no no davanti occhio qua che c'è un cumulo di vada a gente fate quello avanti o fate questo faccio questo fai quelli che cazzo hanno ammazzati un po lì si tutti lì sono arrivati sai ho fatto un cazzo a me questo è un peggio ha due vugie addosso c'è un 153 per trappi no piglia piglia ma 153 che c'è fai tutto tutto compagno hai detto di fucile a pompa vuoi non sai che pure no l'ho trovato il fucile a pompa sai che mi preoccupa tutto granate qua c'hanno di tutto ma ti faccio in giro ma l'ho visto qua vado a farmi in giro sotto i sotterrani e secondo me c'è qualcuno portarmi o niente perché ancora niente ma te posso portarci e tutti qua l'ho fatto la cura che tutti qua ti stai pure addosso a tutti faccio questo o vado giù dai sito su c'è la grada questa è un caglio del santo qua dentro serve? no ehi no 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 mi serve no no grazie scendo eh scendo eccoci allora se vedi un altro fucile a pompa dimmelo ah eccolo qua ho visto ho visto è che ha scritto questo? non mi ripiglio ma c'ha pure il saiga sto frocio dimmelo te l'ho detto a finire il saiga quello andiamo dai dov'è che vuoi andare? sotto vai Roberto 1986 poi andiamo anche eh un momento va sotto adesso vai 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 anch'io anch'io vai 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 non credo che è morto questo che cazzo è questo qua qui c'è la forte questo no no non c'è manco lo zaino ma che cazzo 5 colpi di taglia in un metro questo vai muletti vado io vado io avanti vado avanti io lo farei tutto qua libero libero aspetta che guarda là da rosso guarda c'è prima o solo un bai eh vabbè vai 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 nessuno lascio le giacchiette è ottimo se fosse nel gold c'è la mano se fosse nel gold c'è la mano Andiamo da 1986 a fare il tunnel lì sotto Oh no, so farò, gli spaventano, se tappano il flash C'è nessuno 86 vai passiamo da dove vuoi passare ha passato tutti gli scarico e va adesso occhio ai cucili a pompa che ti scoppiano ma non dovrebbe esserci più nessuno ormai vai fai il saltino c'è un pozzo di roba qua che noia attenzione quanti sono scoppiati lì oh ho sentito un lag aspetta prima non è strato non è strato non è arrivo sentirei un'arca sentirei un'arca dove 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 passate a sinistra E vai giù, vai giù. Questa che è? Non l'abbiamo ammazzato. Non l'abbiamo ammazzato. O l'hai ammazzato che è quello? Alla qui sotto, va sotto. Guarda a destra. Sinistra. Destra. Ma qui ci ho ammazzato il player, andiamo a vedere se era morto poi. Qua? All'inizio ci ho ammazzato uno. Qua. Ah si si è morto, vedi? L'ho scoppiato poverino. Andiamo via, basta. Aspetta. No, ho avuto tutto questo, poi ho avuto tutto questo, non c'è un chezzo. Ma c'è la terra. Ho avuto tutto quello che abbiamo visto prima, scusa. Oh, ho sentito gli scav, eh? Fermo? Eh si, l'ho sentito. Tu lutta quello e io vado fuori, dai. Tu lutta quello e io vado fuori, dai. Ho fatto perchè non lo sento. E non lo vedo. Lo stai su. Dove cazzo? Non lo vedo. Forse uffici, perchè ho sentito il rumore di legno. E' tu? Forse, trovi proprio ora. E' tu? Si. Va su quel tanto io. Sto venendo. Scusa porta dei bagni. Porta chiuse qua. Scusa è il bagno? Porta chiuse qua. Non dietro di te. E' morto? E' morto? E' morto? E' morto. E' morto. Occhio vado in bagni. Occhio eh. Ma di bello. Da questa. E' morto. E' morto. Faccio tutti i bagni. E' più nessuno. No 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 è finito dai andiamoci. Hai luttato tutto? Si più o meno. E' vero. Questa che cazzo è. Ma c'è questa. Ok. Di merda. Sono spawnati altri. Io ti devo spawnare qualcosa. Si si. Sono spawnati altri. Ma tu hai una scelta a coprire. Vai scusa. Ma tu hai scelta questa qua. Vado verso questa qua. Vado verso questa qua. Vado verso questa qua. Ah si? Non usciamo? Vuoi uccidere ancora? Si si. Hai aperto qualche porta? Sì. Quella del ponte giusto? Ho chiuso. Del ponte sotto. Chi è che fa? Casino. Vediamo? No. Io sono sotto. Oh è qui eh. Sta salendo su dalle scale. Da dove sei arrivato eh. Ok. Vado apri. Abri il ponte. Ammazzo. Non sei qui. Non ci să Non ci sono. Ah ti scabbers usponete Ma dov'è uo, sei bagato No aspetta aspetta vaf T'ha fatto male eh? T'ha fatto male eh? Ma staiVA-vafai Volanti a primavera Io non ho sentito due che hanno aperto eh che hanno sosponati beh quindi uno è andato ne manca uno questo ce l'ha a cappone eh e pigliate eh sarà questa ondata che hanno le fort armor eh si questa qua ho tentato bisogna beccare l'altro vengo su da te dai dai mi fa mi cassetta e ancora esce vieni sto arrivando vieni mi salco i tuoi aspetta che chiudo le porte allora cos'è che ti devi fare tu? lascia un attimo le due cassette qua che non fa dai io e chiuditi dentro ok e senti il rumore di me io mi chiedo qua eh mi hanno sentito spawnare due se non sbaglio ho sentito qui qualcosa così eccola qua decenni hai visto? chi? l'ho trovata uh eccolo qua oh spada è morto è morto è morto era qui dal nascondimento dimmi che spada e che ti dico me lo son trovato davanti ok ma da bere come sei messo te non è che muori da bere poi 70% diciamo sono pure da bere se vuoi ti interessa no no ce l'ho ce l'ho anch'io adesso ho tolto un fucchi di tutto ma vabbè ah io ho tutto quasi editto perciò voglio vabbè basta finito i cassetti me ne vado andiamocene dai l'ultimo ah esco andiamo a vedere passa dal ponte che andiamo a vedere questo qua se aveva la forte dentro ok ok sto aperto la porta rossa dove scendo giù? si scendo giù qua 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 cazzo non è preso dove stai? dove sta? si qua era mi trovo non c'era la paca no non c'era la forte questa niente forte niente forte niente forte armo uscivo a me si aspetta finisco di controllare lui cosa ha niente niente vai vai non c'era la fasi saluto gira qua no sai che sinceramente non la vedo neanche ma dai non mi flasha nemmeno fammi vedere gira ti non farò lo della nave ha donato qualcosa lanato qualcosa ma vero puntamela no non non fa flash no no BU? no poi tutte le ragazze e questi sono pure i mirini quindi mi metto tutti i mirini ho ammazzato tutti ho fatto 16.000 infatti 20.000 l'ho fatto vedere io perché è uscito un player 11.30